Eccoci insieme, eccoci insieme col bianco e rosso TB Sport, intanto scorrono i messaggi a Napoli anche senza entrare allo stadio, dice un amico, probabilmente un ultra, Smarco e poi Presidente, il mercato del Terlizzi è chiuso perché ci sono delle date, scadenze chiusissimo, quali sono le vostre avversarie principali, scrive Nicola e poi un'altra ancora, poi rispondiamo a tutti, è vero che Matarrese ha promesso un colpo a gennaio, un difensore molto forte, l'ho letto oggi sui giornali, e poi perché non è stato acquistato un centravanti di peso, scrive il nostro amico Giuseppe, Ventura non credo che lo abbia chiesto, credo che puntasse più su un altro tipo di attaccante, Caputo, credete in esposizione di Caputo, sì, io ci credo, prende lo svincolato Siviglia, Siviglia però più un laterale che un centrale, che io ricordo, poi Napoli con senza tessera, si può andare avanti così a patto di non subire infortuni, scrive Michele, vabbè questo non possiamo sapere, allora le risposte del Terlizzi, acquista ancora? Acquista ancora no, è già tanto, il colpo del mercato di Terlizzi qual è stato? È stato Suarez, attaccante che ha giocato a noi Cattol in Serie C per vari anni, l'anno scorso ho giocato a Molfetta ed è veramente la ciliegina sulla torta, considera che io a fine campionato scorso, quando siamo stati eliminati dai play-off, avevo dichiarato il mio calcio è finito, poi a piazza, no non come sempre, come quasi sempre, poi un po' i tifosi, un po' la piazza, un po' mi hanno chiesto di continuare e avevamo deciso di ripartire dai giovani, di fare una squadra di giovani con qualcuno tipo Gennaro Manzari che sono 4 anni che sta con noi, che è la bandiera del Terlizzi e qualcun altro, poi piano piano l'appetito viene mangiando, abbiamo fatto una squadra abbastanza competitiva per cui è già tantissimo. Le favori di questo campionato quali sono quest'anno? Quest'anno c'è il Racale che è una neopromossa, c'è sempre una Salentina che si attrezza, è la squadra di De Lorenzis, famoso storico da Dario, che so, non lo conosco, è stato un matto scatenato, ha speso un sacco di soldi, ha comprato tutti i giocatori del Casarano di due anni fa, poi c'è Martina che comunque sta di Salendo e poi il Monopoli del mio amico Ingegner Tato che ha il mio allenatore dell'anno scorso e buona parte dei giocatori miei dell'anno scorso, per cui sicuramente non può far che bene. Va bene, per me il tuo grande acquisto è stato Sergio Notariale, sono convinto che... Notariale... Notariale è uno degli allenatori vincenti della categoria... Esperto, riesco sempre a tirare il massimo dal gruppo, insomma... Notariale è stato scelto quando ancora non avevamo in mente di fare una squadra di ragazzi, per cui c'era bisogno comunque di una guida forte. Riapriamo le telefonate 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, sono Massimo. Ciao Massimo, ciao. Un saluto all'ospite. Ciao, ciao. Senti Enzo, due cose. Prima di tutto volevo puntualizzare che il discorso dell'ingresso della corsia preferenziale è avvenuto, il problema è avvenuto nel prefiltraggio. Cioè praticamente dove c'è il prefiltraggio la società aveva diramato un comunicato in cui ci dovrà essere anche nel prefiltraggio una corsia preferenziale per i possessori di tessera e del tifoso. Ecco, questo non c'è stato in alcun settore, infatti nel prefiltraggio abbiamo dovuto fare la coda con tutti quanti gli altri che avevano il biglietto e quindi un tempo... Sì, io non so se il comunicato facesse riferimento al prefiltraggio, parlava di corsie preferenziali per gli ingressi, io non so se ci fosse riferimento specifico nel prefiltraggio. Ci trova anche proprio il prefiltraggio. Mentre poi per la squadra volevo dire Enzo, ritengo che assolutamente non serva niente, se a gennaio riusciamo a prendere un ragazzo di buone prospettive va bene, ma io ritengo che veramente ci divertiremo anche quest'anno. Grazie a te Massimo, grazie. 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. Comunque sono tutti, noi abbiamo ancora la partita del Bari con la Juventus, siamo tutti in questo momento, non si può dire che bene del Bari, però io penso che comunque ci saranno dei momenti in cui ci sarà bisogno di qualcun altro, forse. Più in là, speriamo il più tardi possibile, che vorrebbe dire già aver fatto qualcosa di importante. Intanto, oh, stasera da quello che so io il gilet non gioca titolare contro la Germania, c'è Germania e Belgio, qualificazioni agli europei e purtroppo il selezionatore belga ha scelto un altro portiere piuttosto che il gilet che andrà in panchina, ha scelto un 25enne piuttosto che il gilet. Il gilet per me è una garanzia assoluta, che è veramente un ottimo portiere. E credo che qui e là siano impegnati anche altri giocatori del Bari, penso a Kutuzo e altri che potrebbero essere impegnati con le rispettive nazionali. Allora, c'è un amico in linea, pronto? Sì, ciao Enzo Maurilio. Ciao Maurilio, ciao Carlo, ciao, benvenuto anche a te. Senti, una domanda prima di tutto, volevo sapere se hai notizie, se hanno riaperto la campagna abbonamenti. Al momento non si sa nulla, c'era qualche spiraglio, mentre la scorsa settimana si diceva è chiuso e basta, poi si è riaperto qualche spiraglio. Da quello che so io, il direttore generale del Bari Garzelli aspetta di parlare con il presidente Matarese che era fuori per impegni di lavoro, era credo abbastanza lontano, dovrebbe rientrare in questi giorni o è rientrato ieri, sta di fatto che dovranno mettere a punto una strategia per riaprire la campagna abbonamenti. Grazie. Grazie.